Quei super cattivi hanno catturato Reno! Chissà che cose orribili gli staranno facendo! No, fermo! Che intenzioni hai? Basta rime! Tutto ma non le rime! Adesso ti spiego il mio piano malvagio! In modo che tu non ti senta a disagio! Ah, mira! Mini Rafam! Adorabile archeologo supremo! E siccome sono il capo, ho radunato una legione! Criminali assai malvagi, gente piena di ambizione! Per rubare Dalaran e tutti i suoi palazzi non abbiamo fatto altro che attaccarci due o tre razzi! È volata fino al Doom, neanche fosse un gran reato! E per darvi più fastidio, quattro piaghe ho scatenato! Ah 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 ah! Che carini! Eh? Li abbiamo battuti i portapiaga! No, non è vero! Oh oh oh! Altro che! Come avete fatto? Non interrompermi! Ora tocca al pubblico! Prana ha sconfitto il portapiaga come i nani sanno fare! Mentre Pinnus sulle dune non gliel'ha mandata a dire! Alla morte Cercastelle ha impartito una lezione! Quanto ai Murloc mi è bastato fare un po' con lo spaccone! Bum! Ma hai dimenticato? Il portapiaga delle fiamme? Ho spaccato pure lui! Bum! Però abbiamo ancora la piaga della non morte! Oh... Brutta storia! Il piano era quello perché sul più bello! Grazie all'arma finale vincerò io il duello! Galakrond si chiama! Ha una pessima fama! Una bestia nefranda! Ogni cosa li sbrana! Quando il tempo finisce tutto il mondo sparisce! Quindi stai dicendo che ci hai messo un anno per allevare quel drago cattivo e quando i miei amici ti fermeranno di nuovo il mondo sarà salvo di nuovo! È così! Non mi fermeranno! Invece sì! Invece no! No! Sììììì! No! Ma non puoi interrompere lo spettacolo di qualcun altro! Sei un prigioniero davvero fastidioso sai! Sì, me l'hanno detto! E poi sarei io il cattivo! cartilag夾! OK! 躲! C'è chiarere dell'escritto e qua! So perché è un V depression e che è importante che ci sia una seduta? V